La giornata è questo cordone umano che parla, perché parla, se ci giriamo vediamo tante persone, speriamo che dia l'impulso definitivo perché si faccia tutto quello che ci hanno promesso, che noi abbiamo chiesto da due anni, non da un anno, da due anni. Sono venuti i delegati del ministro Bussetti, questo per quanto riguarda la mia istituzione scolastica, hanno preso degli impegni e io mi immagino che loro li rispettino, però per quanto riguarda il quartiere, quindi il presidio del quartiere della videosorveglianza, devono arrivare risposte da altre istituzioni e noi le aspettiamo oggi qui.